Il problema della Juventus è uscito perché c'erano le intercettazioni, allora non c'erano le intercettazioni, quindi si procedeva sulle cose che si captava, allora qualche volta bastava il sospetto per mandare in Serie B una squadra, se scattava qualche meccanismo in quel senso, oggi però davanti alle intercettazioni bisogna prendere atto che è successo qualcosa. Chiaramente è un dato di fatto, anche se le intercettazioni lei sa molto bene che uno può fare dei puzzle, la tecnologia è in grado di fare… Che senso aveva che un tecnico volesse… Alcune potevano uscire fuori al trenozzo. Questo è possibile, non artefatti a livello… Si parlava di questo, ma queste sono uscite dalla magistratura per ora… No, sono state fornite alla magistratura in quel modo, io adesso non so come dire, comunque le intercettazioni regolari, giuste, corrette, le hanno ordinate i magistrati, quelle che non sono state fatte dai magistrati… Rivera, le hanno ordinate, bisogna vedere come sono arrivate. Cioè io dico che in un paese dove purtroppo il conflitto di interessi è una cosa giornaliera che noi viviamo in tanti campi, il calcio purtroppo non fa eccezione, però il fatto che la società Telecom, che è la società che di fatto è legata per vari nomi all'Inter, faccia le intercettazioni in cui sono coinvolti i nemici, tra virgolette, sportivi dell'Inter, insomma mi fa perlomeno dubitare o mi dà la possibilità di dire… No, quello che ho letto è stata la magistratura che ha mandato le intercettazioni alla federazione di calcio, io poi non so… Però Giancarlo, non sono interessato affatto a dire qualcosa, non lo mettete in mezzo, non facciamo confusione, stiamo cercando di fare confusione e non va bene. Ma è un conflitto di interessi il fatto che… Il conflitto di interessi, ma l'Italia è piena di conflitti di interessi. Diciamole anche un altro, non parliamo sempre… Il precedente del Consiglio passato è la fotografia del conflitto di interessi. Perfetto, ma in questo caso anche Tronchitti Provera o Guido Rossi sono un conflitto di interessi. Va a segnare lo Scudetto, un ex dirigente dell'Inter, a noi Juventini… Luigi, secondo te Guido Rossi… Ho l'impressione che siete troppo Juventini, bisogna essere anche un po' distaccati nel fare le valutazioni, perché nel momento in cui viene stabilito che la Juventus e il Milano, anche se sono arrivati prima e seconda, non ci sono più, e il compionato lo vince il terzo. Non c'è niente successo. Il terzo venisse fuori veramente, che i bilanci di Moratti erano truccati. Dei passaporti è già venuto fuori. Dei passaporti sono fuori, però il bilancio che gli permetteva l'istituzione a quel campionato, a chi lo diamo il campionato? Allora, lo diamo all'Inter, a questo punto facciamo un'altra bella cerimonia con Moratti che se lo leva… Se fosse necessario facciamo anche quello, io sono per la correttezza, per la giustizia. Se uno ha commesso un delitto, però innanzitutto la sentenza… Siamo anche Luigi che vuole fare una domanda, non c'è stato illecito. Sì, però in effetti è giusto che non possiamo neanche stare là… Luigi, c'era una considerazione che volevi fare un attimo? Soprattutto il fatto di… se le intercettazioni sono venute da parte della Telecom, avere il… Non da parte della Telecom, la Telecom era il tecnico… Ha fordito, diciamo… Vabbè, no, sulla richiesta della magistratura… Alcune può aver fornito, alcune no. Qui si parla di Telecom, si parla di Inter, si parla di Lega. C'è solamente una persona che lega le tre entità. E chi è? Lo sappiamo. Ah, io non so, guardate che io non so. Non è Valentino Rossi. Ma io non ho mai fatto il Segugio, il Politeotto… No, però è chiaro… No, questa era una considerazione del magistrato. Assolutamente era una considerazione. Però chiaramente… Io sto parlando di quello che vedo. Certo. Io ho visto, ho letto sui giornali le cose che sono successe, e poi è finita lì la mia opera. Allora, visto che prima hai detto… Io ho letto sui giornali. Se sono vere le cose che ho letto, secondo me… Avrebbero dovuto mandare in Cilajuve, in Bill Milan… Ecco, questa differenziazione tra Milan e Juve, che già l'ha detta prima. Perché la Juve ha fatto… Quindi lei crede alla linea difensiva del Milan che Meani faceva le cose? No, se dico che doveva andare in Serie B vuol dire che ha preso atto… La differenza tra l'operato di Meani e Mogi e Meani ci sarà una differenza. Intanto Mogi era un dirigente della Juve e quell'altro era lì a contrarre.